C'è un allenatore il cui lavoro rischia di essere sottovalutato e invece merita di essere sottolineato ed elogiato. Ci riferiamo a Fonseca, il tecnico della Roma è arrivato, ha costruito una squadra molto spavalda in base a quelle che erano le sue idee tattiche e i giallorossi hanno sofferto tanto anche perché magari l'organico non era composto nel modo ideale per adottare un modulo così offensivo. Nell'emergenza, un'emergenza assoluta, ha perso tantissimi titolari, è riuscito a far prevalere il buonsenso, ha rivisto il suo modo di impostare la squadra, ha inserito un difensore a centrocampo, addirittura Mancini, ha preferito dare equilibrio alla formazione giallorossa e i risultati sono arrivati. Ecco, fra quello che ci piace sottolineare di Fonseca, oltre ai risultati, oltre alle belle prestazioni della Roma, c'è anche il fatto che non ha mai pianto per i troppi infortuni, ha cercato di porre rimedio senza esagerare con le lamentere. Ricordiamo soltanto quella caduta di Stile alla fine della partita contro il Cagliari per la quale ha subito chiesto scusa, però la sensazione è che il calcio italiano abbia effettivamente trovato un personaggio positivo e un allenatore eccellente. Il voto finora al lavoro di Fonseca alla Roma è 7,5. Grazie a tutti!